Se fate una giornata con me e ricevete 200-300 padovani senza posto di lavoro, famiglie che chiedono una casa, ho fatto recentemente un piano di inserimento lavoro con i voucher per 400 padovani che non sapevano cosa fare, non sapevano dove girarsi, che non arrivavano a fine mese, cioè io dico, l'avete detto anche voi prima, c'è un problema di lavoro, c'è un problema di migrazione, ma noi non siamo nell'America e nella Germania, abbiamo un tasso di disoccupazione che è talmente alto che abbiamo bisogno del lavoro ai nostri ragazzi, abbiamo il 40% di disoccupazione giovanile, in alcune città come Padova io ho il 15,2% di immigrati, la maggior parte di questi disoccupati, mi hanno costruito una tendopoli in centro a Padova con una tendopoli nella parte storica di Padova, con 500 clandestini, erano 50, visto che si parla di micro accoglienza, facciamo l'accoglienza diffusa, ogni comune se ne prende due, tre, erano 50, sono 500, quindi i cittadini sono disillusi, sanno benissimo che questa è un'invasione che è cominciata così, ma non sappiamo dove andrà a finire, e quindi fa benissimo Salvini a dire quello che dice, invito i bonisti a venire a fare i sindaci e gli Administratori per un giorno... Allora, non ho nessuno...